Un protocollo d'intesa firmato oggi per avviare l'intervento di riqualificazione, valorizzazione e fruzione dei resti di una villa di epoca romana situati all'interno della scuola della Guardia di Finanza di Coppito. La villa è del primo secolo a.C. costruita su un terrazzo artificiale, utilizzata sino al IV secolo d.C. Un protocollo importante che porterà la partenza dei lavori ad inizi estate perché c'è già il progetto preliminare di università e soprintendenza. Oggi firmiamo una convenzione che vede necessariamente coinvolta la Fondazione della Casa di Risparmio, soprattutto la sovrintendente alle belle arti e l'università. Questo perché naturalmente è anche la nostra proprietà, perché la proprietà della nostra caserma è dell'Iner. La valorizzazione di un sito così importante ci consente necessariamente di restituire qualcosa alla città. Cultura vuol dire proprio questo, cultura vuol dire riscoprire il nostro patrimonio, il patrimonio che ci ha donato la storia. Essere quindi vicini alla città non soltanto perché prepariamo da un punto di vista giuridico i nostri marescialli, ma soprattutto perché facciamo cultura tutto tondo. Ecco perché la scuola è così orgogliosa di questo progetto. Si tratta di reperti molto importanti e la volontà è di rendere la villa fruibile alla cittadinanza e anche per ragioni di studio, dal momento che si trova vicino ad altri siti, come Amiternum ad esempio. La grande lungimiranza in questo contesto è quello di rendere questo patrimonio visibile, visitabile. Non è così scontato come sembra, è un'ottima opportunità perché io dico sempre che quando noi sappiamo che il nostro patrimonio è tutelato dalla Costituzione e la Costituzione parla di Repubblica che tutela il patrimonio, quindi la Repubblica siamo tutti quanti noi, scatta un diritto dovere, il diritto per tutti di poter fruire di questo patrimonio, di poter godere di questo patrimonio. modo che è anche il dovere di trasmetterlo a tutte le generazioni future perché anche le altre generazioni abbiano questo diritto. La Fondazione Caris, pacco come sempre, ha scelto di sposare questo progetto finanziandolo. Questa realtà rappresenta un fatto importante per l'Aquila, per la regione, per la nazione, quindi questa scuola che quest'anno festeggia i 100 anni di nascita e i 30 anni di presenza all'Aquila deve vedere e ha visto la presenza della Fondazione. Tanto che la Fondazione è voluta essere presente anche nella valorizzazione di questa scoperta che ricollega anche la caserma, la scuola alla città.